Napoli Genoa, giocammo di domenica sera e alla mattina facevi la rifinitura, a un certo punto non ci vede svegli, si cazza e dà il cronometro a me a Burdisso e dice adesso fate tre serie da dieci dalla riga di fondo campo a metà campo e iniziamo a correre. La prima serie inizia a pensare, stasera giochiamo a Napoli, quel Napoli di Higuain, Amsic e gente varia, a che io e Burdisso ci guardiamo alla seconda serie e lui se ne accorge, inizia a dire ma voi che avete fatto il calcio a alti livelli ancora pensate che se correte stamattina stasera non andate, facciamo una scommessa che stasera li uccidiamo. Per lì eravamo stanchi, perché eravamo stanchi, la terza sera eravamo stanchi, la sera è finita uno a uno ma li abbiamo massacrati.